Esecuzione scorretta del nodo dritto L'esecuzione scorretta porta ad avere il finale della corda in direzione opposta rispetto al finale dell'altra corda Entriamo all'interno del nostro occhiello, giriamo intorno alla corda ed entriamo mantenendo la corda nella stessa direzione Questa è l'esecuzione corretta Nell'esecuzione scorretta è sufficiente sbagliare il giro e trovarsi con la corda nell'opposta direzione Questo è pericoloso perché è un nodo che non serra, come vedete scorre Mentre nell'esecuzione corretta è sufficiente invertire la rotazione di una delle due corde I due capi sono dallo stesso lato e quando il nodo andrà in tensione il nodo va a serrare correttamente e non si scioglie Ok! I don't know!